Ha scritto Albert Einstein, non dobbiamo semplicemente sopportare la differenza tra gli individui e gruppi, ma anzi accoglierle come le benvenute, considerandole un arricchimento della nostra esistenza. Queste sono le parole di Einstein e queste parole rappresentano bene un'idea di società aperta, di società inclusiva, plurale, quindi realmente democratica, quindi senza la paura dell'altro. È una società che accoglie e che include, è una società, credetemi, molto più forte e molto più sicura. Vi ringrazio.